Rispetto alle parole che sono state pronunciate molto importanti dalla senatrice Segre sul premierato, possiamo sapere cosa ha pensato nel momento in cui le ascoltate? Io la prossima settimana farò le repliche e quindi sentirete tutto quello che io dirò in controreplica sul premierato. Ho un grande rispetto, oltre che un'amicizia personale per la senatrice Segre, anche se non condivido i contenuti del suo intervento. Siamo nel Parlamento che è il luogo naturale del dibattito politico e quindi è chiaro che ognuno dirà quello che pensa. Ministro, quali sono i punti focali per quanto riguarda il premierato? Adesso li avete già sentiti, credo che… Aspetto anche a quelli che sono cambiati. Io ho presentato solo un emendamento che riguarda una riformulazione dell'articolo 7, non è un nuovo emendamento, è soltanto una riformulazione per rendere più chiara la lettura di questo articolo. Tutto qua. Ho tenuto conto del resto anche durante tutto il dibattito che c'è stato in Commissione, di quelle critiche che erano emerse e da parte delle opposizioni e da parte dei costituzionalisti. E ho modificato qualcosa. Perché da parte mia, da sempre, c'è stata un'apertura al dialogo. E laddove una critica può essere giusta, per me non si alzano, a differenza di altri, barriere di carattere ideologico. Grazie a tutti. Grazie.